Allora, al nord è un po' in tutta Italia freddo, ma a Roma sembra che la giornata si sta mettendo bene e si prevede un buon terreno di gioco per Lazio-Milan. Infatti era prevista neve qui a Roma, tutti quanti già stavano disperati con il sale e con il gatto delle nevi perché sapete che qui a Roma basta uno sputo di neve e si blocca la città, mentre in città al nord come Torino e Milano la neve gli fa quasi un baffo perché sono più abituati. Da noi la neve è un evento, oggi si aspettava neve, qui intorno nelle parti più alti di Roma c'è la neve ma diciamo che a Roma e nell'enorme Vallata che va da Tivoli fino al mare a Ostia non c'è assolutamente neve, ha un po' piovuto stamattina, addirittura adesso c'è il sole, quindi per le 20.45 all'Olimpido è previsto tutto sommato sembra un buon clima, neanche freddo tutto sommato e la partita è importante perché è quella principale penso di questa giornata che vede la Lazio quarta in classifica a 36 punti giocare in casa, ospitare il Milan a 43, quindi partita delicatissima e delicatissima perché potrebbe rilanciare la Lazio ancora più in alto e potrebbe a sua volta dare un altro passo avanti verso la lotta a due da parte del Milan contro la Juventus. Le formazioni le vediamo insieme, diciamo si gioca l'Olimpico alle 20.45, per la Lazio un 4-2-3-1 il modulo direi, Marchetti, Conco, Biava, Dias, Radu, Ledesma, Matuzalem, Gonzalez, Hernanez, Lulic e Close che dovrebbe giocare come unica punta anche se non sta al massimo della condizione. Indisponibili infatti ci sono Mauri, Brocchi, Kozak, Makinwa, Alfaro e Cana. Per il Milan invece che risponde con Abbiati, Abbate, Nesta, Tiago Silva, Mesba, Emanuelson, Van Bommel, Nocerino, Sidorf o Sedorf come preferite, Robigno e il grande Ibrahimic che è in grande forma, capo cannoniere, miglior marcatore della Serie A con 15 reti. A disposizione Amelia, Mexes, Bonera, Zambrotto, Ambrosini, Panchina, Maxi Lopez e Sarawi e quindi si prevede secondo me un Milan all'attacco anche se gioca fuori mentre una Lazio chiusa in difesa, questo è il mio pronostico, io vedo una vittoria del Milan per 1-0 anche se diciamo sono di Roma, qui alla Lazio, però secondo me il Milan vincerà 1-0 è il mio pronostico, così diciamo personale. si gioca alle 20.45 quindi dicevamo Allegri ritrova Tiago Silva al centro della difesa. Diciamo che la Lazio si sta rilanciando un buon campionato anche quest'anno, il Milan insomma è in lotta per lo Scudetto, secondo posto a un punto dalla Juventus, ma c'è un mese di inferno per lui decisivo sia in campionato che in Champions League, ricordo che sta anche in semifinale in Coppa Italia.